Vi garantisco questo, la disponibilità totale al servizio, la disponibilità totale a metterci la faccia. Sarebbe stato più semplice fare il mio mestiere, rimanere in ufficio, rimanere in classe. Credo comunque invece che mettersi in gioco, rendersi disponibili, uscire con la propria faccia e metterci la propria capacità professionale possa essere ciò che ciascuno di coloro che sono candidati con me nelle liste della Lega Nord e nelle liste del Pdl sono stati in grado di fare e sono in grado di mettere a disposizione della città di Treviglio. Mi fa particolarmente piacere che qualcuno fischia e che qualcuno vuole, soliti strumenti di coloro che non hanno nessuna argomentazione, andate avanti a urlare, una certezza sola, i trevigliesi sanno scegliere, non chi fischia, non chi urla, non chi sparge fango, ma chi è capace di fare le cose. Auguri a Treviglio, lasciamo per portesia a casa questa sinistra ideologica, diamo Treviglio alla maggioranza di Treviglio, portiamo a casa Treviglio, viva il popolo della libertà, viva la Lega Nord e tra 36 ore la porta del comune che qualcuno ha aperto vedrà uscire finalmente qualcuno dal comune.